quello che mi emoziona di più è il sorriso della gente vedere la gente stupefatta vedere la gente che ritorna bambini ancora per una volta anche solo per quei dieci minuti mezz'oretta quello che è li vedi a bocca aperta questi occhioni luminosi e quello è la parte più bella di tutto è un ambiente un po tutto magico questo